Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti. Pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Grazie.